Ha lasciato scontenti quasi tutti i partiti l'accordo raggiunto in extremis dentro l'Assemblea regionale siciliana sulla discussione della manovra di bilancio. Si profilano tempi lunghi per l'approvazione. Fino a domani, venerdì, ci sarà tempo per presentare gli ementamenti e da martedì inizierà la discussione. Un ementamento dell'opposizione ha prolungato fino al 31 marzo l'esercizio provvisorio, dando più tempo ai deputati dell'Assemblea per la legge di stabilità. Abbiamo cercato di portare a casa una manovra che servirà ai siciliani per iniziare il nuovo anno e per coprire le aspettanze del 2019, ha dichiarato il Presidente della Commissione Riccardo Savona. La Commissione bilancio presieduta da Savona ha rimandato al voto dell'Assemblea regionale il trasferimento del mutuo del sistema sanitario nelle voci del bilancio regionale. C'è poi il finanziamento da 250 mila euro per la Commissione via Vassa e quello per i consorsi di bonifica. I deputati grillini attaccano Musumeci per la proposta di tagliare un milione di euro al fondo regionale per le ex province per coprire una spesa della città metropolitana di Catania. Se è intenzione di Musumeci salvare conti del suo territorio, lo faccia creando una riserva apposita sulla città metropolitana di Catania e non incita sui bilanci delle altre ex province. Abbiamo voluto salvare gli stipendi dei dipendenti, ma ci siamo opposti al resto, hanno dichiarato i deputati del MoVimento 5 Stelle. Previsto e approvato anche in Commissione il fondo di compensazione per gli stipendi di una serie di enti, associazioni teatri che aspettavano parte delle retribuzioni del 2019, previsti 4,4 milioni per gli ex PIP, LSU, RESA e secanterie di servizi ed emolumenti aggiuntivi per i carabinieri. Il disegno di legge, dichiara ancora una volta il Presidente della Commissione Bilancio Savona, garantisce i fondi per tutto il 2020 per i teatri siciliani e i consorsi di bonifica, l'ESA e i forestali.